Ciao a tutti, sono Nicolò Famiglietti, Beauty Fitness Train, ed oggi vi allenerò con un circuito Arm Wrap Focus Gambe e Glutei. Tempo di lavoro 18 minuti, andiamo! Eccoci ragazzi, pronti per il nostro circuito Arm Wrap Focus Gambe e Glutei. Partiamo riscaldandoci e intanto vi spiego quello che sarà il nostro Arm Wrap. Riscaldamento, step touch, gambe e braccia insieme. Allora andremo a lavorare per 4 esercizi ripetuti per 4 volte, 5 minuti, 3 giri. 4 esercizi, 2 per le nostre gambe, 2 focus glutei. Ragazzi, il classico Arm Wrap, il miglior allenamento per bruciare più calorie possibili nel minor tempo possibile. Scaldiamoci e poi partiamo subito. Forza con me! Ricordatevi di allenarvi sempre con il sorriso, eh? Noi stiamo lavorando come degli egoisti che si prendono cura di sé, egoisti del nostro benessere. Qua, come vedete l'ho scritto anche nella maglietta. Ancora, dietro, qui! Ragazzi, scaldiamoci, piccolo riscaldamento proprio per sciogliere le nostre gambe e partire con il nostro Arm Wrap. 18 minuti di lavoro, avremo un timer per visionare tutti insieme il nostro lavoro. Qua, gli ultimi, calci dietro. 3, 2, 1, ok, stop ragazzi! Ogni esercizio lo ripetiamo per 4 volte, tutto 5 minuti senza mai fermarci. Attivo il timer, gli esercizi saranno molto semplici. Squat, affondi, ponte gluteo, gamba destra, ponte gluteo, gamba sinistra. 4 per ogni esercizio. Ragazzi, timer alla mano, così possiamo visionare tutti insieme il lavoro. E siamo pronti a lavorare. 3, 2, 1, tutti insieme squat, 4 squat. 1, 2, 3, perfetto. 4, qui, 4 affondi. Destra, 1, 2, 3 e 4. Vado sul tappetino, scendo giù ragazzi. Gamba destra, basta, sinistra sopra. E sono 4, ponte, 3, 2, cambio gamba, sinistra terra, destra sopra. 4, 3, 2, e riparto. Torno in piedi e riparto da capo. Tutto ancora per 4 minuti e 13 secondi. 4 squat, sì, 1, 2, 3, 4. A fondo, andiamo, 1, bello l'affondo, 2, 3, 4. Andiamo subito. Tappetino, qua. 4, 3, 2, e cambio gamba. Subito. 4, 3, 2, si torna in piedi e si riparte. Cercate di mantenere il mio tempo. Andiamo squat. 4, 3, 2, 1, affondo. Forza qua. 1, belli gli affondi. Tutto il piede bello piantato a terra. 3, 4, ponte gluteo. Gamba destra. Ragazzi, finiremo questo workout con dei glutei che vanno a fuoco. 1, 2, 3, 4. Cambio gamba. Gluteo ancora. 1, sì, 2, 3, 4. Si riparte. Mamma mia, subito. Abbiamo ancora 2 minuti e 50 secondi. Squat. 4, 3, 2, 1, affondo. Ragazzi, hamrap semplice, ma semplice significa efficace. 3, 4. Subito. Tappetino. Tenete il mio tempo. Ponte gluteo. 1, 2, 3, 4. E cambio. Ve l'ho detto che l'hamrap è il migliore allenamento per bruciare calorie in poco tempo. Secondo me sì, ve l'ho detto. 3, 4. In piedi. Di nuovo. E mancano un minuto. Anzi, no. 2 minuti e 10 secondi. Vai. 4, ancora 2 minuti e 10 secondi. 2, 3. Sì, scendi bene. 4, affondo. 1. Come vedete l'affondo non è dritto, ma le gambe vanno leggermente lateralmente. 3, 4. Andiamo. Subito ragazzi. Ormai riconoscete il nostro circuito, ma solo ripetuto fino alla fine. 2, 3, 4. E cambio. Subito. Ancora 4. 4, 3, 2. In piedi. Quanto tempo manca? 1 minuto e 30 secondi. Forse riesco a fare ancora 2 giri. 4 squat. 1, 2, 3, 4. Andiamo di affondo. Qua. 4, 3, 2, 1. Andiamo subito. Ponte gluteo. Destra. Non mi fermo. Qui. 4, 3, 4. 2, 2. Cambio gamba e allenati sempre con il sorriso. 2, 3. Senti il gluteo contratto. 4. E abbiamo proprio 50 secondi. Il tempo per fare l'ultimo giro. 4, 4 squat. 4, 3, 2, 1. Affondo. Bello, affondo. Qui. 1, scendi bene come me. 2, 3, 4. Ponte gluteo. 30 secondi al termine da ora del primo giro. Poi recupero un minuto. 4, 3, 2, 1. Cambio. Ancora 4, 3, 2, 1. Ok. Torno in piedi. Ragazzi, ancora 10 secondi. Forse gli squat li faccio. Riesco a fare gli squat. 4, 3. Dobbiamo essere precisi. 2, 1. E stop, ragazzi. Verde. Un minuto di recupero. Come va il primo giro? Il primo giro serve anche un po' per prendere dimestichezza con questo workout. E ora partiremo il secondo giro. Stesso lavoro. Già vi annuncio il terzo giro. Saliamo. Alziamo l'asticella, come mi piace dire a me. Perché ogni esercizio non sarà più ripetuto per 4 volte, ma 6. Però ancora abbiamo il secondo giro. Tutto, sempre 4 volte. 30 secondi e si riparte. Ragazzi, prendete fiato. Respirate. Molto bene. Pronti a ripartire. Ricordatevi sempre, l'AMRAC è il miglior allenamento per bruciare tante calorie quando abbiamo poco tempo. Quindi è un allenamento da salvare e rifare tutte le volte che ne sento necessità. 10 secondi e si riparte. L'ità di lavoro è sempre lo stesso, ragazzi. 5 minuti senza mai fermarci. Squat. Affondi. Gluteo destra. Gluteo sinistra. Pronti a partire. 3, 2, sempre con il sorriso. 1, si va. Squat. 4. E ora aumentiamo anche un po' il livello, la velocità di esecuzione. 4. Vai a fondo. Sì. 1. Adoro questi allenamenti. 2, 3, 4. Andiamo subito. Vai di gluteo. Scendo giù. 4. 3. 2. E cambio. Prima la gamba sinistra, poi la gamba destra. 1. 2. 3. Gluteo al lavoro. 4. Riparti subito. Squat. Ragazzi, solo 40 secondi abbiamo applicato per il primo giro. 1. Abbiamo impiegato. 2. 3. Scendi bene lo squat. 4. Affondi. Vi faccio vedere lateralmente. 1. Vedete bene anche l'esecuzione. 2. 3. Sì. 4. Andiamo. Subito. Qua. Giù a terra. 1. Gamba destra sotto, sinistra sopra e ponte gluteo. 2. 3. 4. E cambio. Forza ragazzi. 1. 2. Finiremo questo workout con i glutei che prendono fuoco. 4. In piedi. Si riparte. 3 minuti e 40 al termine. Squat. 4. 3. Scendi bene. 2. 1. Andiamo di affondo come piace farvelo vedere. Qua. 4. Bello grande. 2. 6. 3. Ormai siamo caldi. 4. Andiamo subito. Molto bene. Qua. 4. 3. 2. Cambio ragazzi. Questo workout. Solo questi 15 minuti noi andiamo a bruciare dalle 250 alle 300 kilocalorie. 4. Salgo. Ragazzi solo 3 minuti al termine del secondo giro. 1. 2. 3. 4. 4. Andiamo di affondo. 4. Bene. Scendo giù. 3. Il ginocchio sfiora il pavimento. 2. 1. Sì. Gluteo ponte. Gambe destra bassa. Sinistra sopra. Non fermarti ora. 1. 2. 3. 4. E si cambia. Sì. 1. 2. 3. 4. In piedi. Di nuovo ragazzi. Squat. Come potete vedere non serve niente. Nei manubri. Nessun attrezzo. Solo esercizio corpo libero. 4. Andiamo a fondo. Ma gambe e glutei finiremo che avremo allenati al top. 3. Sì. 4. Vado. Ponte. Gamba destra terra. Sinistra sopra la destra per 4. 3. 2. 1. E cambio. Mamma mia. Ottimo lavoro. 4. 3. 2. 1. Di nuovo in piedi ragazzi. Manca 1 minuto e 40 alla fine del secondo giro hamrap. 4. 3. Sendi bene. 2. Sì. 1. E andiamo. Ricordati di essere egoista del tuo benessere. 2. 3. È il nostro mood. 4. Gluteo. Ormai andiamo in scioltezza. Nemmeno vi dico più niente. 4. A tempo di musica. Cambio. Sì. Qui. E andiamo. 2. 3. 4. Io adoro gli allenamenti hamrap perché secondo me sono i migliori allenamenti per raggiungere un risultato in poco tempo. 2. Poi sono veloci, divertenti. 4. Andiamo a fondo. 4. 3. 2. 1. Ragazzi. 45 secondi. Il secondo giro mi è volato. È perché sono caldo. Il primo giro lo accuso sempre un po' più. Il secondo volo. Il secondo volo. Forse sono un diesel. 4. Cambio. Ancora. 4. 3. 2. 1. Vediamo quanto tempo ho ancora. e 24 secondi. 23. Con noi arrivo a fare sia gli squat che gli affondi. 1. 2. 3. Il sorriso. Ragazzi. Non perdiamolo. 4. Andiamo di affondo. 4. 3. 2. 1. Ragazzi. 4 secondi. Ci provo. Vediamo se riesco a fare. Anzi, voglio concludere. I 4 glutei. 1. 2. Anche se sforiamo il tempo. 3. 4. Cambio. 4. 3. 2. Stop, ragazzi. Di quanto ho sforato? Eh, vabbè. 5 secondi abbondanti. Vabbè. Non l'importante. Forse più. 10 secondi abbondanti. Va bene, ragazzi. Meglio ancora perché siamo allenati. Mi preparo per il terzo e ultimo giro. Ve l'avevo preannunciato prima. Qui saliamo di grado. All in the best arrivano al termine. Perché ogni esercizio lo ripetiamo non più per 4 movimenti, ma per 6 movimenti. L'ultimo giro è il giro, quello della vita io lo chiamo, perché è il giro che ci dà la massima soddisfazione. E' quello che ci aiuta a raccogliere i frutti di tutto il nostro workout di oggi. Pronti a partire? Perché il timer già si chiama. 5 secondi e si va. Tutto per 6, ragazzi. 4. 3. 2. 1. Andiamo in scosso. 6. 1. 2. 3. 4. 5. E 6. A fondo. Vai, ragazzi. 1. 2. 3. 4. 5. E 6. Andiamo di gluteo. 6. Destra. Ah, qua. Veramente il lavoro inizia a essere intenso. 2. Vi ricordo che brucieremo 250 kcal. 4. 5. E 6. Cambio, ragazzi. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 5. E 6. In piedi. Si riparte. Sono sempre 6 squat. Vai con me. 1. 2. 3. 4. Sì. 5. 6. A fondo. Vai. 1. 2. 3. Bene. 4. Ormai li conoscete. 5. E 6. E andiamo di gluteo. 3 minuti e 40. Vai, ragazzi. Non si molla niente. 1. 2. 3. 4. 5. E si cambia. Vai. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. In piedi di nuovo. Siamo a metà del tempo. No. Ancora 3 minuti e 15. Ancora abbiamo. Vai. 6. 1. Riuscite a stare al mio tempo. 2. 3. 4. 5. Non perdere il sorriso. 6. A fondo. 1. 2. Ragazzi. 3 minuti. 3. Gli ultimi 3 minuti. 4. Il maratoneta che vede l'ultimo chilometro. Siamo come loro noi. Vai. 6. Siamo un maratoneta che ha fatto 40 chilometri e vede gli ultimi. 1. Non può fermarsi. 2. 3. 4. 5. E 6. E cambio. Vai. 1. Adoro Amrath. 2. 3. 4. 5. 6. Ragazzi in piedi. E siamo a 2 minuti e 20. 6 squat. 1. 3. 2. 3. Bene. 4. Scendi bene. 5. 6. 6 affondi. E le gambe iniziano a bruciare. È normale. 2. È normale. 3. Vai. Scura bene il movimento. 4. Come me. 5. 6. Andiamo. Tappetino. 6 gluteo. Forza qua. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E cambio. 6. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Su di nuovo ragazzi. Manca solo 1 minuto e 25. Con me. 6. 1. Scendi bene. 2. 3. 4. 5. Scendi bene. 6. Vai. 6. Affondi. 1. 2. E aumenta un po' la discesa. 3. Sono degli affondi. Devi scendere. 4. 5. 6. Gluteo. L'ultimo minuto ragazzi. Siamo partiti. Mancherà quindi un giro. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. Cambio. Ragazzi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E siamo entrati nell'ultimo giro di questo. Super arm wrap. Gambe e glutei. 6 squat. 1. 2. Vai che poi lo squat non lo facciamo più. 3. 4. 5. Stringi bene l'addome. 6. Affondo. 1. 2. 3. Vai. 4. 5. Ragazzi sono rimasti i 6 glutei. E abbiamo terminato il nostro super arm wrap. Gluteo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cambio gamba ragazzi. Gli ultimi 6 movimenti. Gli ultimi 5. Solo 4. 3. 2. 1. E stop ragazzi. Lentamente. Molto bene. Mi alzo in piedi. Lenti, lenti, lenti qua. Una marcia sul posto. Allungo gamba. Mantengo. Ma molto bene. Cambio. Super allenamento arm wrap. Il miglior allenamento per bruciare calorie quando ho poco tempo. E l'abbiamo portato dal termine. Due respiri. L'ultimo. Chiudi. Prendi bene. Fuori. Grazie mille. Un bel applauso. E noi ci vediamo nel prossimo video.